Prodotti della terra trevigiana all'Expo 2015 di Milano, le eccellenze del territorio dal radicchio alla trota agli champignon. Nella marca infatti si produce quasi la metà dei funghi champignon di tutta Italia. Il settore insomma cerca di mettersi in mostra anche per far fronte alla crisi. Sentiamo. I prodotti della terra trevigiana all'Expo 2015, radicchio naturalmente, formaggi, funghi champignon di cui Treviso è uno dei principali produttori e la trota del sile. I frutti a marca Treviso sbarcheranno alla grande esposizione universale di Milano, nutrire il pianeta, energia per la vita. Abbiamo veramente delle eccellenze, delle eccellenze produttive che vanno oltre quello che è un prodotto conosciuto come il prosecco. come il radicchio ma ci sono altre filiere produttive che sono degne di essere conosciute e che possono rappresentare delle ottime opportunità di mercato. Prodotti locali ed Expo anche contro la crisi, intanto perché la nostra agricoltura cerca nuove professionalità. Servono grandissime professionalità e molte volte molto specifiche in settore molto specifici. E poi perché da Treviso arriverà all'esposizione anche il va de meco ma su come allestire un piacevole ed economico orto privato. È il volto positivo della medaglia che serve a controbilanciare l'altra faccia dell'agricoltura sofferente per il maltempo e le abbondanti piogge di questa strana estate. La vendemmia l'abbiamo portata a casa sicuramente non sarà una delle vendemmie da ricordare. Anche altri settori però ne potrebbero soffrire. Il radicchio di Treviso tanto per cominciare ma a soffrire saranno anche i cereali. Già cominciata la trebbiatura del mais, qui però il problema sta nel crollo del prezzo. Stiamo raccogliendo, trebbiando un mais sano, ci sono quantitativi. L'unico problema è che sono ormai delle commodity che subiscono della volatilità dei prezzi che è impressionante. Rispetto allo scorso anno il prezzo è crollato del 30%. Ora lo senti col livello di passare per la vostra eccessione del prezzo è un progetto del duro слушare il prezzo soddisfatto. Come noi differiamo un decreto cattlemente così, era fin 750 perchéывает韭 tarde. Allora si ringsono mangiolando e la vostra sicura vaghi della sicura niente cront easily clan. Per nessuna ricerca della termina voi stations di rappresentare tutte le cose sombili 손� registranno, ci sono convicti da un percento per dispari período a questi formati dai 221 ormai dare a 62%.